Siamo dispiaciuti per non aver potuto riconsegnare o comunque dare a tutti i tifosi italiani quella gioia che meritavano e che comunque meritano, dispiaciuti per il risultato. Non abbiamo nulla da nascondere, siamo tutti responsabili. Io insieme a tutti i miei collaboratori riteniamo che la scelta che noi abbiamo fatto è una scelta che si appella ad un grande senso di responsabilità. Bisogna continuare a lavorare. Spalletti deve avere la nostra fiducia, ha la nostra fiducia, deve lavorare. Indietro non ci posso tornare, cerco di sforzarmi, è chiaro per quello che si è visto. Poi qualche cosa ho sbagliato, ho tentato di ringiovanire un po' la squadra. Siccome rimango qui, questo in futuro sarà fatto ancora di più.